Sindaco, aspetti positivi e aspetti negativi sull'approvazione di ieri del bilancio della Teramo Ambiente? Sì, intanto è un bilancio di transizione, tanto perché è il primo bilancio che abbiamo coperto integralmente come questa nuova amministrazione, come nostra amministrazione, socio pubblico, di maggioranza relativa e poi perché c'è stato l'avvicendamento nel corso del 2019, come sappiamo, con la procedura fallimentare di Venezia, quindi con l'ingresso del nuovo socio privato della nuova governance. Per quanto riguarda gli aspetti critici, sicuramente quello relativo alla perdita di ulteriori commesse che nel corso degli anni la Teramo ha subito, si riverbera anche sui dati di bilancio, quindi sul volume complessivo dell'attività dell'azienda, quindi è un dato critico anche perché di fatto conferma quello che stiamo dicendo da tempo, che oggi più che mai la Teramo Ambiente si tiene in vita e si regge sul Comune di Teramo. Ecco perché il Comune di Teramo ha il diritto, oltre che il dovere, di guidare il futuro dell'azienda. Sui dati positivi invece si sente, si avverte e si legge con chiarezza la nuova linea che abbiamo impresso. La riduzione dei costi di gestione, la riduzione dei costi determinati da una cattiva gestione politica, che la TEAM ha pagato in passato, l'inversione di tendenze che abbiamo dato anche su questa partecipata, come su ogni altra partecipata del Comune di Teramo, lo diciamo sempre, deve essere la società partecipata a servizio dei cittadini e non dei politici, o della politica o di esigenze politiche del momento, perché sui cittadini non si possono scaricare i costi che nulla hanno a che vedere con i servizi pubblici. E la riduzione dei costi di gestione è un aspetto sicuramente importante, in un contesto nel quale abbiamo anche raggiunto un obiettivo importante, che adesso dovrà essere comunque formalizzato, sia in CDA di TERM, che è poi in Consiglio Comunale, che è quello relativo all'orizzonte che si vede per l'uscita dalla questione dei debiti e dei crediti, quei 4 milioni di euro che gravavano sui bilanci di TERM nel Comune di Teramo, con questa linea di accordo transattivo che dovrà essere adesso formalizzata e che veramente risolve un problema che forse è la più significativa o comunque una delle più importanti, gravi, pesanti eredità che la cattiva gestione precedente hanno scaricato sulla nostra amministrazione.